e basta sta iniziando mandiamolo subito quindi abbiamo da una parte il buon rob che abbiamo già visto ma rob dove sta rob è qua dall'altro l'amico shoto delle delle skin l'importante è vedere l'azione e vedere il buon rob continuare attenzione rob ce ne sta prendendo ok comunque veramente che non c'è cosa è una roba alla street fighter è esploso da 80 a 120 per cento e poi show you can verso la bla io l'ho sempre detto che questi personaggi giocano un altro gioco ma abbiamo raggiunto 20 spettatori andrew si è portato tutta la cricca grazie mille ragazzi ben arrivati andrew mvp mvp decisamente vediamo che già sta tenendo la di bene tanto c'è mvp anche a livello di sta dominando il match si 39 per cento contro una stock wow rob non l'ha toccato già ok non è riuscito a lanciare un beyblade rob in questa partita che non mi aspettavo che chillava quella pb invece gli ha fatto molto male attenzione ma cosa succede quando tu stai giocando un altro picchià duro c'è il triplo delle combo guarda attenzione e cance vado ma donna fa il mondo combo lì lì fa per arrivare un altro show se il king di lugano attenzione attenzione ma è pazzo si è fuori controllo è vero e anche se il lato però il periodo si va niente per la stagione sta sta veramente non è aspetta la sport oggi ma non la punisce sta veramente dando spettacolo questo dp andrew 69.4 per cento mangia cibossano è per questo che così forte perché mangia mangia tipo il latte bello b no no sapere a letteralmente togliando rob c'è sta per arrivare me lo sento la b che è arrivata la ronda eccolo eccolo accione potrebbe arrivare anche un round house è una specie di calcio rotante che chi c'è sta letteralmente giocando con rob ma sembra che non voglio a proposito di calci rotanti dicevamo eccolo il round house grande morara frutta balordo la scherza che qualità posso dire che non c'è stato non c'è stato gioco riga deve ripiegare su un altro personaggio o deve adattarsi alla svelta perché ken lo ha dominato lo ha dominato siamo ancora in best of three poi quindi potenziale ultimo game di windows per rital se non gioco qual è il problema riga deve spammare è il problema è che se non non gli dà tempo per spammare se vediamo intanto rob can sul stadium questa volta che non gli ha dato non gli ha dato proprio il tempo di preparare il suo spazio entro già centro stage riguardo gli ha avuto subito lo spazio ok ma che nel lento dovrebbe farci non mi sembra molto lento questo ken eden attenzione l'ultimo hit di 6b attenzione attenzione però rientra torna cosa ha fatto tornare attenzione per il mondo se gioco ok si sta adattando tensione vediamo se gli ha quasi ricambiato il favore intanto il pop off arriva da noi in ritardo per affacciare sono me che non c'è proprio ti sta pressando eccolo va bene è successo la di per lo shoryuken di ken è diversa da quella che devi fare i controlli di non so perché chi è più forte per lo 32 si completano la vicenda per i matchup addirittura forse ken è utile in più matchup ma non sono certo ken mi sembra che abbiamo un po più di potere un po più di kill power ecco ken ha più combo ken è meglio ecco che anche dalla chat però anche rob sta sta reagendo ora se non c'è abbastanza di parità in termini di percentuali e stock però perché le auto e basse arrivo e out ok side b prima l'abbiamo sannato questo side b di di rob che è il nuovo se si prende ad hoc e cioè sembra aver imparato qualcosa dal match precedente riga un calcio lo sape è ancora vivo è ancora vivo dai andrea ancora quattro quanto interazione chiudi oddio forse tre ok ok ragazzi non so se sia andrew che tipo è fomentatissimo dalla chat e quindi è un re è un fire o andrew che sta fomentando la chat qua bisogna ok 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 no ha mancato la spy cercava l'ha voluto la clip forse ottiene voleva voleva eccola è successo distrutto un incontro che è stato è brutto dire che non c'è stato